Differenziare significa anche risparmiare. È la situazione che si profila per i contribuenti di Ribera che, a partire dal 2019, potrebbero veder ridurre l'importo dell'Atari. Magari non saranno cifre considerevoli, ma l'amministrazione comunale è pronta a dare comunque un segnale ai cittadini dopo aver incassato recentemente altri 329 mila euro dalla Regione, quale premio per aver raggiunto il 65% di raccolta differenziata nel 2017. In realtà a Ribera sono già oltre questa percentuale, con il porta a porta che viene effettuato da diversi anni e controlli severi nei confronti dei trasgressori. Rispettare le regole potrebbe adesso anche rappresentare una diminuzione, seppure minima, della tassa rifiuti. Valuteremo come utilizzare il finanziamento di 329 mila euro ottenuto come comune virtuoso, ha dichiarato il sindaco Carmelo Pace, che non esclude appunto un possibile vantaggio per i riberesi. Il premio ai comuni ricicloni è arrivato a dicembre, non a caso il Consiglio Comunale è stato chiamato a fare lo straordinario, riunendosi alla vigilia di Capodanno per approvare la variazione straordinaria al bilancio di previsione, che consentirà di calare nell'esercizio finanziario in corso il finanziamento ottenuto e finalizzato a migliorare ulteriormente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Un premio energito complessivamente a 31 comuni siciliani, per i quali sono stati complessivamente stanziati 5 milioni di euro. In alcuni di questi la differenziata tocca punte anche dell'82%, ma i fondi erano relativi al 2017. Nell'elenco dei beneficiari, oltre a Ribera, anche altri 8 comuni agrigentini. Si tratta di Sambuca di Sicilia, Montevago, Santa Margherita Belice, Calamona, Cirialmonte, Sant'Angelo Muxaro, Raffadali e Ioppolo Giancaxio. L'importo e il contributo era proporzionale anche al numero di abitanti con una base uguale per tutti di 80 mila euro. I comuni più piccoli hanno incassato ai 96 e ai 99 mila euro. È il caso di Ioppolo Giancaxio e Calamonaci, per poi passare a 119 mila euro di Montevago, 159 mila di Sambuca, 164 mila di Santa Margherita e arrivare ai comuni di Raffadali e Ribera, che hanno incassato rispettivamente 245 e 329 mila euro.